Quello di Mel e Nancy era un matrimonio come tanti anni. Tesoro, credi che riusciremo mai a far l'amore? Finché lui non decise di cercare i suoi veri genitori. Ecco vostro fratello, Danny. Le donne che negli anni sessanta hanno dato in adozione i figli erano ragazze liberi, indipendenti. Per caso stai dicendo che ero una droga? Quella piranna è tua madre? Loro lo senta. Quello era Danny. Vai in avanti! Non avevo previsto questo intervento. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Amor è disastro.